Ormai mano a mano che passano i giorni appare chiaro che sulla questione della emergenza covid nella scuola si stanno formando due schieramenti. Da un lato chi minimizza e dall'altro chi enfatizza. Forse la verità sta nel mezzo ma certamente può essere utile esaminare le opposte ragioni. Da un lato c'è la ministra Azzolina che ancora nella giornata festiva di ieri ha ribadito che non c'è alcuna ipotesi di provvedimenti restrittivi per le scuole. Il governo non ne ha affatto discusso, ha scritto la ministra sulla propria pagina Facebook, e sarebbe strano il contrario dal momento che i dati confermano che le scuole sono luoghi molto più sicuri di altri. Però proprio nella giornata di ieri Vincenzo Iaccarino, medico e sindaco di Piano di Sorrento, visto il progressivo aumento dei casi di contagio, ha proposto lo stop delle scuole di ogni ordine grado per un mese. E persino il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, dice che riaprire le scuole è stato un errore e che la riapertura è stata imposta da Roma. I dati, fanno però sapere dal Ministero, sono confortanti. Alla data del 3 ottobre risultavano positivi al Covid 2.348 studenti, ovvero lo 0,037%, e 402 docenti, ovvero lo 0,059%. I sindacati, e non solo loro, per la verità, fanno presente che bisogna essere molto cauti e sono nettamente contrari allo svolgimento delle prove concorsuali che dovrebbero coinvolgere decine di migliaia di docenti a partire dal prossimo 22 ottobre. Non è il caso di allarmarsi, replica la Ministra, le prove si svolgeranno in aule dove in ogni caso non ci saranno più di 10 concorrenti. Intanto, proprio nelle ultime ore, sono emerse alcune novità importanti. La prima è che d'ora in avanti la quarantena durerà soltanto 10 giorni e poi c'è il fatto che il Governo sta valutando l'utilizzo dei test rapidi anche nelle scuole, come la Ministra sta chiedendo da diverso tempo. Certo è che se i casi di alunni o docenti positivi dovessero incominciare ad aumentare, la situazione diventerebbe preoccupante e forse si potrebbe parlare di nuovo di chiusura delle scuole, anche se ormai sembra che, anche in questa evenienza, le chiusure riguarderebbero solo le scuole o le aree colpite e non la generalità delle istituzioni scolastiche. Ed è così che nei social si moltiplicano giorno dopo giorno i docenti, ma anche i genitori, che propongono di tornare al più presto, almeno per una parte dell'orario scolastico, alla didattica a distanza, o meglio alla didattica digitale integrata, come ora si chiama. Come si può comprendere, la situazione è davvero complessa, le variabili in gioco sono tante ed è difficile fare previsioni. Ovviamente nessuno vuole un nuovo lockdown e nessuno lo auspica, ma i rischi sono tanti ed è del tutto comprensibile che insegnanti e personaleata, ma anche genitori, dirigenti scolastici e studenti, siano preoccupati. Questo è il tema del momento, quindi continueremo ad occuparcene. Seguiteci su questo canale, seguiteci anche sulla nostra testata www.tecnicadellascuola.it Scriveteci, mandate le vostre osservazioni, le vostre esperienze e noi ne daremo conto come al solito. Grazie a tutti.